Filippo Forone, il nuovo arrivo in casa Giorno Rossa, proveniente da? Da Montesperto, da Peppo. Ma non ho scorto, giocavi? Dove? Ah, Fabriano. 13 partite un gol? Sì, ho fatto 13 partite un gol a Fabriano e il metano stavo così a fermo. Ruolo? Eh, centrocampista, mediano. Sì, ma dove? Davanti alla difesa. C'è quello famoso ruolo bellissimo che stoppa l'azione terzale e rilancia. Sì, è molto difficile, ovviamente. Quello fai tu? Sì. Perché sorridi? No, non lo dico. E quando avevi saputo di essere di vedere qua? Avevi altre alternative? No, avevo più qualcos'altro, però ho aspettato... E quindi per te che rappresenta la piazza di Giulianova? La piazza di Giulianova è una piazza importante, ci ho cercato anche contro diversi anni. Qualche squadra? Con la Santa Maledetese, con la Fermana, diverse volte. Sì, è una piazza... Questo campo caldo, eh? Sì, ricordi, sì. Tu sei nato in realtà? Sono al Civitanova. Quindi sono pure caldo, sì. Sì, sì. Questi campi di riva al mare, vero? Sì. E quindi il tuo obiettivo quale è adesso? Ricominci da cavo, cioè dove vorresti arrivare? Perché tu quanti anni hai? Io ho 30 anni. E quindi come è tardi e presto, si può fare tutto? No, non è tardi, non è tardi e presto. Il senso, l'obiettivo è quello di fare bene qua. Tu sei ottimista fondamentalmente? Cioè questo sorriso che ti ha contraddistinto per tutta l'intervista, che cosa vuole dire? Sono ottimista. Sono ottimista, quindi noi ti auguriamo un buon lavoro e speriamo di vederti in campo al trattato sorridente. Va bene? Grazie, buon caldo.